Situazione sempre più grave per quanto riguarda l'erosione costiera. Nei giorni passati abbiamo avuto una forte erosione costiera, soprattutto sui tratti di costa già sofferenti da questo punto di vista. Voglio ricordare Martinsicuro, Albatriati, Capineto ed altri comuni della costa abruzzese. Quello che è grave è che il milione di euro che l'anno scorso fu deliberato dal Consiglio regionale per aiutare le imprese balneare offese dalle mareggiate, ad oggi è passato quasi un anno e mezzo, la Giunta regionale non ha provveduto ad approvare la delibera relativa per quanto riguarda le modalità di concessione del milione di euro. Un ritardo davvero grave da parte di questa Giunta regionale che non solo è in ritardo per quanto riguarda le attività di contrasto, niente ripascimenti, niente scogliere, niente pennelli. Da tre anni la Giunta regionale non ha fatto assolutamente nulla da questo punto di vista ma è quello ancora più grave che il milione di euro deliberato un anno e mezzo fa proprio per aiutare le imprese balneare offese dalle mareggiate del novembre 2019 ancora non hanno visto né la delibera né tantomeno l'avviso per avere questi fondi necessari per continuare le loro attività. Davvero una grande delusione da parte di cittadini, comuni e soprattutto imprese balneare verso la Giunta Marsilio e il suo Presidente in maniera particolare.